Con il decreto 158 del 20 maggio 2020 la Regione Marche prevede che l'attività svolta presso le palestre e piscine è consentita a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento e nel rispetto anche delle specifiche linee guida del settore. La società Fano Fortune che gestisce la piscina comunale Dini Salvalai si sta organizzando per riprendere da dove purtroppo il lockdown ha forzatamente interrotto corsi, attività agonistica e attività legate alla disabilità. Un mondo fatto di atleti, sportivi, appassionati e famiglie che sono rimaste, è proprio il caso di dirlo, all'asciutto. Ma ora la società e le sue maestranze si stanno adoperando per rendere operativo l'impatto natatorio della Sassonia, spostando così tutte le attività nella sede estiva. Vorremmo completare alcune strutture nuove che negli scorsi anni non c'erano, non erano previste, quest'anno per il distanziamento e la tutela dell'utente dovremmo fare, dovremmo completare. Partiamo con molte incertezze, con molta paura, avremo una riduzione certa, viste le direttive del 30% di ricavi e abbiamo gli stessi costi dell'anno scorso più quelli dovuti alla gestione del coronavirus e alla prevenzione di tutto questo. Abbiamo chiesto aiuto anche alla Proloc, che ci presterà una di quelle casette che danno anche per Natale per fare i mercatini e con quello faremo due punti di segreteria, quindi due appunti di accesso. Poi comunque ci sono tutti i nostri recapiti sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, il nostro sito. Sarebbe opportuno, per non dire necessario, che l'utenza si strutturasse in quel modo, ovvero non venisse di persona a chiedere informazioni o a fare la prenotazione del corso, ma lo facesse attraverso altri canali, che sono quelli digitali. Per chi non può, che è in spiaggia o un turista o è solo di passaggio, ovviamente noi come sempre lo accoglieremo in segreteria, faremo un triage con il rilevamento della temperatura, dopodiché potrà accedere alla conversazione con le nostre segretarie e faremo tutto quello che si può fare. Il nuoto libero sarà garantito tutta la giornata, anzi abbiamo allungato i tempi di apertura, pensiamo di aprire dalle 7 del mattino fino alle 8 di sera, sabato e domenica compreso. In questa vasca da 25 metri per 2 di ogni corsia posso mettere, se hanno più di 7 anni, 7 persone, se hanno meno di 7 anni, 5 persone. La prenotazione è importante per capire quanto è metterne per non creare disagio. Non avremo gli spogliatoi perché purtroppo non abbiamo la metratura, quindi utilizzeremo soltanto i bagni che verranno sanificati in continuo come le sdraie, come gli ombrelloni e tutti gli attrezzi. Abbiamo pochi incassi, però abbiamo un progresso già pagato che dovremmo in qualche modo riconoscere. Chi ha già pagato viene e lo incastriamo in un corso nuoto in partenza. Chi non volesse questo cercheremo di onorare restituendo un pagato che non abbiamo potuto portare a compimento oppure possiamo dare un voucher da consumare nei prossimi 18 mesi come peraltro prevede la normativa. Non vogliamo scontentare nessuno, anzi ci faremo carico in qualche modo di soddisfare tutte le esigenze.